Il Paradiso delle Signore, venerdì 13 novembre 2020. Armando e Agnese, malgrado l'interruzione, sono felici insieme e continuano a frequentarsi. La donna è però preoccupata all'idea che qualcuno possa averla vista entrare al cinema in compagnia di Ferraris. Aideleide intanto continua a indagare sul rapporto tra Umberto e Federico e si avvicina molto alla verità. Ormai le manca poco per scoprire che i due sono padre e figlio. Vittorio scopre che Pietro si comporta in maniera svogliata e che non è affatto grato per il verdetto del giudice. Conti è molto triste per questo. Salvatore e Marcello rischiano di far saltare per aria tutto il catering a causa di molti errori. Laura li obbliga a rimediare ma sono Armando e Agnese a risolvere e dare una mano. I due rimasti soli si lasciano finalmente andare alla passione.